Toma 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 Dovevo continuare a fare questi due, uno perchè mi saranno due belli e due perchè si devono venire questi stronti. Dovrei fare pure la solo superstar come dice. Questa cosa mi metto a fare la solo superstar. Vieni prima che lo cerco, sai come si fa la solo superstar qua, te lo ricordo? Quella lì l'amicizia. Visto che sei live. Nooo, perchè si l'ha presa con l'altro? Con la spegnola. Nooo, perchè si puro guardar. Arigato. Arigato. Vabbè, ora controllo io, capito? Eh. Vai! Guarda quei lanciati che sono forti qua. Che cazzo? Ti metti ad ammazzare prima di due lanciati? Senni si istrugge. Ecco. Non c'è nulla. Troppo lontano. Questo è il video che sta notando. Un botto di danni, raga, va a traccio. Senni si skill. Allora. Superstar, soul, con 8 brazos. ... casa nubo ... 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 c'è trovera eh, non me lo trovo, come si chiama in inglese? PINKY PUSSICA dove è stato io che faccio Blasters? Perfetto, come vedo Sì, sì. è la missione di battuglia possiamo cercare è la Chopper Rose oh no battugna niente e questa è Chopper Rose ah è costa è ok, non mi preoccupi molto non mi preoccupi 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 No Not really, it's boring At least for me it's boring, if you like it, okay Get down your fat Work Coz, there's the Close, I'd be wrong Sì, ma è come un evento che ti faccio 30 secondi, è niente speciale, questo è quello che sto dicendo. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, è quello che sto dicendo. Atleast, for me, I'm talking for me. For me I like 3 primogenes, stop, 3 primogenes. Did you use all the codes? The 3 codes, from the preview. Noi. 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 trova a forse ho quello prima e ma lui ce la ascio per trovo e questo qua da lui ma io non ce l'ho cambiano sempre amore amor sei o piemi serlo lol it's not an horror it's a cartoon i said pinkie poo not winde poo anyway io credo che ci sono questo è raro too bad non sarebbe male forse l'amico non 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 Ormai no, per me può capitare il jumpscare, ma non è che... Guarda che mi spavento... Se mi fai il jumpscare è a tradimento... In che senso ti ho? Non vedo nulla... Non vedo nulla! Sto spaventando il Y-Kai Watch, non hai il Y-Kai Watch? Ma la porta non compare... Ora è compasso... Non vedo nulla... Nu, non vedo nulla... Orli chi What? In questo tempo? Ho ho scoperto... e non bisogna vedere se cambia ogni volta faccio una battuglia o cambiano proprio ogni giorno ok lui era nuovo no cambiano ogni volta visto devo aspettare che spunta qua cambiano ogni volta devo aspettare che spunta forse qua farmi la nostra morse se qualcuno di loro si unisce non è male stai cercando di prendere la sole superstar perché probabilmente sei anche tu antipatico che oh eccolo qua magari uno di questi sinistri niente sto scherzando però lo sai che cosa in parte non c'è Questa è rara, a sinistra pure lei non sarebbe un male a unirci. Il titolo della live mi sa che doveva essere diverso, in realtà il piano all'inizio era un altro, poi ho pensato di fare la solo super star, vabbè, e poi la pubblico su YouTube la live la cambia, il titolo della live, sperando che riesco a farlo, ma ce l'avevo shot andato, non mi ricordo, iranie della sorte però giochi e giochi come yokai watch e pokemon che sono fatti per bambini principalmente, non so se lo sai, per modo di dire, il target, l'audience, e il pubblico a cui mirano sono i bambini eh. Ma nessuno si sta lamentando di te. a cui si sta siano, non so se lo sai, non so se lo sai, non so se lo sai. E' un po' che lo sai che non so se si sta siano, non so se si è siano, non so se si senti e non so se si senti il più giro, ma non so se si senti. Come c'è arrivo di là, dove fa tutto il giro, ma non molto vuoi. Forse ho capito dalla siccina. It's a yokai watch. If you don't know the brand, it's hard to understand. It's not real, but it's like a simile pokemon game. We can call it a simile pokemon game. This is a spin off, it's not from the main series. Come and play. Ma il 3 lo giocherò in inglese, prima mi sai. Cioè ci ho pensato. perché così mi comincio a memorizzare i nomi in inglese perché il 4 sono obbligato a giocarne in inglese molti li so già i nomi e invece no così sul 4 poi mi trovo meglio poi devo impararmi i nomi da zero di molti li riconosco tanto li so più o meno i nomi in inglese non me li ricordo a memoria però li so ma tanto il 4 sono obbligato a giocare in inglese oh agonio lui è raro fanculo alla mini missione mi preferisco agonio ma mi sembra che ce l'ho forse però non mi ricordo forse no non lo so non mi ricordo se ce l'ho lo prende in inglese vediamo se l'ho tradotto porco la voce in inglese sarebbe fantastica no ma non c'entra è questione perché il 4 sono obbligato a giocarla in quel modo un po' io comunque un altro ho trovato la secondaria di pinko kapu di amorseo e lì si può unire in quella secondaria se li spuntano dove li spuntano un sacco di amorseo fatuno era comparsa qua però io avessi di nuovo qua è comparsa un altro facciamolo mentre ci si appena finisco questo è qui esco dalla porta qua c'è un'altra vicina c'entra pie ma se il 4 è in inglese è in inglese non ci posso fare nulla non esiste in italiano questo non so se ce l'ho se lo posso giocare solo in inglese non è colpa mia se non è riuscito a aiutare c'è lui non c'è niente ma sta in questa zona tarnino la prima volta mi spunto un altro zard vabbè comunque è un pattugliamento è più facile che si miscano non è tanto c'è più probabilità che si miscano ecco compare qua carmina in questa zona preferirei amor seo così non lo devo livellare certo non è solo non compagno più non è solo non compagno più è solo non compagno più Scusate, buon. Ma lo capivi? Adesso magari lo capivi già. Uh, questo qua è raro, magari mi esce. Non so, magari lo capivi veramente già. Mi ha lamentato questo che sui merda. Non so, non so, non so, non so, non so. Ma tu la gioca in italiano. come fai a dirlo? Tutte le informazioni che ho cercato sono io che ho sempre cercato in inglese se ti ricordo, ma in italiano. Lo sai vero? E' sempre cercato tutto in inglese, nonostante il gioco in italiano. Non so se lo sai. Eh, c'è qualche carlino qui. No, secondo me spawnano a casa. Ma c'è agonio qui. Prima comparivano tutti gli Zard. Se mi uscissero di nuovo tutti a Morseo come prima. Ecco questi. Dammili a Morseo. Unisciti per favore. No. Merda. Dai che mi serve. Uno me ne basta. Nel frattempo sto facendo sfereoni perché li sai. Che non è per nulla male però. Preferirei che si unisse. Ho pure preso pure qualche yokai che non avevo. Bragogno. Magna destra. Non ce li avevo questi. In che senso dire? Che vuol dire. Non ti sto capito. Non ti ho capito veramente. che vuol dire. Ma ciò parte delle Achrom sono tutte in inglese non in italiano. Ma tu. 1500 di danni. Interessante. Non ti ho capito che vuol dire. spiegami cosa intendo scusa veramente non ti ho capito a te sembra che ti trovo l'oro non si trovano insomma è così raro carnino hanno fatto apposto perché ti serve per la soul sembra che siano diventati più forti un'altra di nuovo agonio non dirmi che è di nuovo agonio guarda spai dai mia morseo un'altra di nuovo agonio guarda intanto infatti devo giocare questo che forse finisco il watch c'è il medaglio tutto il medaglio vediamo perché sono già buon punto anche perché farmando si è obbligato a affrontare altri yokai quindi per i requis se ne mancano relativamente pochi ma non mi interessa che le ho sprecatevi non so avrei potuto livellare personaggi migliori non me ne frega yokai migliori però va bene così e sti cazzi tanto dovrò farmare per livellare i yokai mi serve barbonella ma non mi interessa non so che ho livellato di yokai tu certo tu ti sei preso i yokai s all'inizio del gioco cazzo vuoi fai quello forte per quello no io ho giocato con i gbagnani fino all'altro ieri ti ricordo differenza tua uuh ma che finisce? no è tutto farm lo capisco ma è il gioco più divertente del mondo da quel punto di vista però è chill quindi nella sera preferisco fare dei giochi più tranquilli anche se ci sono le battle boss difficile anche qui ma non so se parli al tuo boss storia quando ho giocato il tuo junk no ho sbagliato uuh morseo e mo dovremo trovarmi di più no? spero che sia così che ora ne troviamo di più perchè è comparsa là ma che serve? eccolo qua ma che serve? eccolo qua non c'è la mission non c'è la mission non c'è la mission non c'è la mission ma è rispunta l'orda di honor sail non c'è la mission non c'è la mission non c'è la mission non c'è la mission sto chillando io ancora c'è tanto da fare ho visto che ci sono pure i livelli 120 rip è lunga la situazione spero che guadagnerò più più sferioni e basta tu probabilmente stai pensando a qualche boss difficile forse bello quello è il tende ma dove stiamo se dovrebbe esserci a morseo qui dovrebbe esserci a morseo qui sto tranquillo carnina non c'è non c'è non c'è non c'è Ancora devo fare le altre cose Inquandrano in un sistema una squadra mi sa che mi toccherà mettere il doppio healer Metto due attaccati, due healer anche se non vorrei mai farlo Però per i boss più forti mi sa che è obbligatorio Perché poi lì si ha è stupida, si butta addosso al nemico Dico già, vedi la ultima stick, quella che fa la palla e ti distrugge Ecco, i miei compagni si buttano addosso mentre fa la palla, vorrei capire perché Mi ho messo una strategia che devono attaccare chi dico io Lì si mettono, non attacco nessuno in quel momento Ah non mi mangio, mi sembra un altro Metto da parte per non farmi colpire e loro gli saltano addosso Per esempio quella cosa non la capisco Ecco lì potrei si bestegnare probabilmente Non so se c'è una cosa del genere con un nemico forse Quello lì lo puoi outplayare perché stra livelli e lo batti Ok probabilmente Poi c'è qualche nemico tipo al cap di livello Potrebbe essere un po' un problema Ce l'ha già Però vabbè lo usiamo per livellare le soul Che cacchio sta anni Carlino e gli Avorse io. Ma ci sono. E' più orto fare le missioni che cercarli così. Ma quella è andata a colpire zardo che era l'altra parte del mio. E' tra i dati. Oh shit, no. I tembuli mi sembra che non ci vanno a me. Mi ha rallentato sto bastardo. Ciao mattina. Mattia. Ma mi hai rispuntato nello stesso qui. Vabbè, non ci ritorniamo. Come va Mattia? Devi dare gli amorseo, gli amorseo mi devi dare. Che merda. Allora. 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 Ma tanto non spunta, più. Se non spunta non lo posso nemmeno provare a spring. Devo almeno a spuntare. Ah, mi spuntano tutti tranne lui. E' fatta apposta, l'hanno messo tipo semi-rare secondo me, a livello di apparenza, cioè di probabilità che appaia. Guarda quanta gente c'è qui. Il signor banana. Ma non c'è. Cioè, ne sono accamparsi due tipo. E basta più. Ma è veramente così raro. Boh, boh, boh. Sto facendo un sacco di sfere. Quello sì. Ma penso che ne avrei fatti di più facendo boss. Penso, ma non sono sicuro. Un altro pezzetto. Vediamo, mo dico non voglio morseo. Vediamo se è spuntato. Non lo voglio più, basta. voglio qualcun altro. Ma è spuntato veramente. Se finisce il colmo. non c'è niente. Te l'hai spuntato. Che cazzata. Il timing perfetto. Non lo voglio, non lo voglio. 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 Questo pure se si unisce. Penso si può unire. quello di Tupac pure mi serve. Mi fa ridere perché mi sembra Tupac, ma non c'ho la G. Tupac, in realtà è Tupaghi, ma ce la facciamo oggi a fare questa cosa? Non lo so se ce la facciamo. Se che forse sono così rari. Non serve a nulla che è comparsa. Oh, ne ho trovati tre in totale. Che c'è qua, guarda. E compariva tra i yokai che ci sono. Ci sono a prescindere, non cambiano ogni volta, secondo me. Anche lui va bene, uno dei due. E che io non so se ti dice quando sta per scadere il tempo in questo gioco. Non riesco a capire quando scadere il tempo. Vabbè, ma usciamo da la porta. Di nuovo. Oh. Non, non mi sembra. Esco di problema. Trovei ottenuto. Ehi, il cazzo, mi serve Marseo. Non mi interessa il trofeo. Non mollate mai! Ti avrei ottenuto. Più... L'ultima persona a trovare Marseo in questo mondo. Il più sfigato del mondo a trovare Marseo. Mi abbraccia. L'ultima persona a trovare. E... ... ... ... ... ... ... ... Nooo, questa misione è merda. Vabbè, nemmeno venire qua a sinistra, che è un missile del cazzo, perché esiste un missile. io Questa ha bisogno di più cuore, non lo so se ne ha che impressionare forse, si stanno prendo tutti, tranne Amor Sera. Amor Sera Ma sono finite le missioni? Non sto accampando più nulla. No, lì sotto. Oh, che favore dai. Oh, finito. Eh, 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 dio bono. Oh, finito. 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 Non può essere così raro uno yokai così. Così. Del genere. Ho 50 puzzetti e nemmeno una morsera. Quello che poi devo prendere pure casa nuova. Non spuntare. Oh no, sta missione di merda di nuovo. Basta! Che schifo, sta missione che devi raccogliere le cose in giro. Non le voglio. Morsera nemmeno col binocchio, li vediamo. Li troviamo ogni 100 anni. Se sei fortunato. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Oh... Io lo stavo attaccando in realtà però... Mentre... Usciamo dalla porta dopo che faccio questo... Cosa... ... 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 tante nozze a uno che si unisce come sempre cammino forte il tempo sape scadermi ma che tu dai un occhio a tempo non è non ma non non ma Ma non esce tanto... Dio boh... Ma non esce tanto... Ma non esce tanto... Prende pure in giro... Guarda, me li fa spuntare, ma non me li da... No... Prende pure in giro... No... Non esce tanto... Prende pure in giro... Prende pure in giro... Non esce tanto... Prende pure in giro... Li stiamo trovando... Ma non si uniscono... Guarda... Sì... Finalmente... Prende pure in giro... 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 è questo qui scettolo dell'amore è colpa mia no 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 dai ma che sono scemi questa mancocura tutto calcolato la bomba prende no 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 qui oh mio macho io lo possio da Vediamo un altro audio. Vediamo meglio pure una scaragonia. Tanto l'assenza scaragonia cosa fa? Vediamo. Guarda come si finiscono subito. Non mi fermi! E' così quando ci vuole figliare. Non mi fermi! Non mi fermi! Non mi fermi! Questo notario però l'uggirato mi distrugge. Ci provi! Prendo un sacco di tempo di gioco con Amor Seu Carnino che non voglio perdere altro Ah, mi sto scettando o no? Devo provare a vedere come prendere casa nuva e se riusciamo lo prendiamo Oh, no No, 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 no. No, no, no. Eh, ho fatto la cazzata io. Eh, vabbè. Ecco perché non posso giocare a valorizzato questo boss. Sto boss di figlio di andare a valorizzato perché... Ma in generale in sto gioco giocare a valorizzato è quasi impossibile. Sono quei nemici deboli. Non ti riescono a uccidere. Ma anche quelli, eh. Ti riescono a uccidere senza te. Deve darti di fortuna, tra l'altro. Oh, scetto dell'amore. Perfetto. Dove è Carmine? Come no? Vabbè. Si era bugato. Ah, ma ci servivano pure Brun Legionale. Sì, beh. E' stato semi worst allora. Poi c'è casa nuova. Dove si trova? Sono bene. Ehm... Ah, dovevo prendere gu pistol... Questa lì... Oddio... L'altro è un casinato... C'è cubistolo qui... Questa lì... almeno a finirla oggi. Questa non ce l'ho nemmeno, finissi. Guarda tanti danniari, questi sono forti, specialmente quando ce ne sono tanti insieme. Che è un altro raro pistol. Non vorrei che mi faccia perdere lo stesso tempo di quell'altro. Capace. Capace. Oddio che mi sono in merda. Oh, ero un cubistone. Ok. Questa è raro a sinistra. Questa è un cubistone. Questa è un cubistone. Questa è un cubistone. Questa è un cubistone. Ehh... Con quelli lì non si può velocizzare, lo immaginavo... Sono troppo forti quei robi... Per fortuna non avevo preso quei pistoli, quindi non mi è importabile tanto qualcuno di rare... Niente... Però si trovo lì... Non mi ricordo come si può volvere però... Ma con questo non crepiamo... Questa nemmeno... Anche con questo... Che vuol dire Pie? Ma tu sei ancora sveglio? L'ho trovato alla fine carnino Pie... Mi serve Cupist allora... Lo so Pie... Però di solito vai lo stesso a dormire presto... Più o meno presto... Anche... Il venerdì... Non ricordo male io forse... Schede belle... Soprano trarre gubistola... Sì... Ma se va a finire come a morse... Non ho capito perché li hanno messi così rari... Ho visto le morse... Vabbè... Ho capito quanto forte la soul di sbattarli? L'unica motivo è quello... Non riesco perché li hanno messi così rari... Vabbè... Grazie a tutti. Sto velocizzando perchè mi sono rotto. Non ci può voler tutto quel tempo per farmare uno yoga. Oh cazzo questi sono pericolosi. Contro di questi non posso voler usare. Troppo forti gli uccelli ase. Fanno danni ad aria e ti distruggono. Secondo me il competitivo è fortissimo l'uccelli ase. Ehi piu piu piu. Cioè è un dadare assurdo. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Guarda che ce l'ho già il rumore. Ho trovato la sua evoluzione. Ho trovato il tutorial. Il tutorial di far evolvere gli oggetti. Ed evoluzione in generale. E' una vera cubistola. Dai che merda. Che odio sti tipi di missioni. Questo è rarissimo cubistola. Non spunti. E' spuntano ogni cento anni. Ma erano stati i king? Boh. Non l'ho letto. Resta a te verlo lì. Può essere. Comunque c'è il segno. In giro. Ti ci continually. Oggi c'è la mia vita? Oggi. No, non l'ho letto. E' il tempo. quando arriva lì la freccia rossa insieme a quella bianca e finisce il tempo almeno ho capito quella cosa però non l'ho mai incontrata Sì 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 Dove stanno i movies? Scherberg Sì 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 No Sì 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 facciamo l'ultima missione cosa 20k via noo che schifo l'imps ah nelu boh dipende dipende che trigger ha non li so i numeri precisi cacchio guardati qualche video il cubistone non si unisco altro cubistone sono capito di tre di fila uno che si unito non è però circa si dovrebbe fare tra i 25 tra i 20k in su poi poi dipende che trigger appunto un'altra ma che chiaro la tua cura di nuovo questo unisciti no anche questo ha pronto laura che si unisce oh che raro buono ma perché tu ci vuoi chiudere l'abis con il niluvio che dovrei fare con i gomi sull'imps tu lo sai anche anche due no vabbè eh ho velocizzato vabbè sti cazzi c'era non 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 sta scadendo il tempo ma che ha colleghi no, non la faccio, questa esco che lo so, no? lo faccio una volta a volta mi sa che non c'è il limite di quanto yokai puoi tenere rispetto agli altri yokai watch questo forse non ce l'ho nooo non c'è il caso fa schifo quella missione lì da che devi prendere gli oggetti no, c'è sto appena molto lontano eh, questi sono forse ok siamo visti che bella tenisci? no ehi, continuo a comparire sui giù qui non è che mi dispiace eh sono vicino, è preferissimo e quando sono quelli di combattimento gaga no 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 ok no Ehi, sta perfino il tempo. Non escono i cupistolli, sono esattamente come gli Amorsel e i Carnir, escono una volta ogni cento anni. Che casino. E nulla, oggi non riusciamo a finirlo. Ehi, forse almeno uscivano in questi qua. Qua mi sape che ci stanno più yokai. Uscivano nelle missioni o meno. Cosa che ci stanno più yokai e quindi è più difficile che escano. Facciamo quest'ultimo e usciamo ancora dalla porta. Un guscio all'entrano. Ne ho 86.000. Non mi compare mai però tra i yokai che ci sono. Ma c'è. Ho trovato più di una volta. Devo che errar. E' un guscio di una volta. Ora soprattutto mi era allontanato non bene poi. Non parlo poi. Di nuovo. ... ... ... ... ... Questa è un lato abuso al preso, anche quella ragazza, quella ragazza arc. Questa è un lato abuso. Non riesco a capire che ho visto questo. E' seriamente? Boh. Dopo questa giuda, quanto? Chi è questo? Non ho capito anche chi è. Dimentica. Sì. Io non so se stai in questa zona, ho visto. Non so se stai in questo caso. Non so se stai in questa zona. Non so se stai in questa zona. E' un'altra zona. Non so se stai in questa zona. Non so se stai in questa zona. Non so se stai in questa zona. E' un po' di tempo. quando c'è un livello particolare. Infatti devo controllare le cerchie, comunque, se sono deciso di fare qualcosa. Oh no, missioni in merda. Questa perdo meno tempo se la faccio. Anche perdo meno tempo. Qua si finisce il tempo. Questa perdo meno. nulla abbiamo fatto metà e però ogni volta troviamo comunque qualcosa di nuovo di nuovo lo prendiamo ogni volta ecco ce l'ho più visto ne vedremo più a 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 forse perché è il primo livello a 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 e sei tu che non scrivi bene la che sono io a a torna scrivi come faccio a sapere se ci sei o no dai dammi sto cupistoll ormai finisco questa questa roba qui perché mi manca solo cupistoll e l'oggetto per fare le volte che sono... che che merda penso che massimo in 10 minuti e un quarto d'ora ce la faccio se ci sto mettendo due ore per fare una pallina di merda per aumentare la propria delicisi ti rendi conto qui avrei dovuto logistizzare prima inizio live la prossima volta la prossima volta l'oggetto direttamente se quando si si fa i ripattugliare e cose così ho guadagnato un corpo di sfereoni anche se ti consumano in mezzo secondo 100k sfereoni dai 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 ma non c'è un limite a yokai che può tenere sui blasters? Mi sa di no eh? Cioè posso avere infinito yokai? Prima c'erano i limiti con 400 o 500. Qua mi sa che c'erano i limiti. Dammi sto cupisto, dai. E' il primo premio quindi è un po' raro. Più veloce di fare l'altra missione e più probabile anche di fare il pattugliamento. Più proprio trovarlo così. Maggiare per le sfere. Ho quasi al 10 per la del crit rate. Che buono. Ho l'8 per la porta al 10. Ho l'8 per la porta al 10. Ho l'8 per la porta al 10. Ho l'8. Ho l'8. Ho l'8. Ho l'8. Ho l'8. Segnami, non ce l'ho, forse sì, mi sembra di no. Oh, finalmente. Dallomeno potrò raggiungere il mio obiettivo in quest'area. Ma ormai non ti vuoi vedere la sfera, Pien? Ma nulla. Ormai potrei stare per 30 secondi. Buonanotte, Pien. Ah, ma non ce l'ho, forse. Pensavo di averlo. Niente, no, 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 devo stare a farmare un altro 3 secondi. Mi dispiace. Mi serve... Lo spaccamolo, questo qua. Quindi si poteva farmare pure di un livello qua, mi sembra. L'ho visto. E l'ho visto. Qua, spacca un livello. Ah, te lo regalo qua, Minotaur Hunter. Vabbè, facciamoci stare questo qua. Movotar e Ioni. Sono stato fantastico. È così che hai detto il telefono? Sì, ne sono sicuro. E cos'è un buon Movotar? No, no, no. Uh, mi dice sul serio? Non lo sai? Quindi che fai? Vai o rimangi 5 minuti? Ci sono cose che neanche io sono, Minotaur. Allora, calmati un attimo. Ti racconto la storia di Mootar. Apri bene le orecchie e ascolta. Tanto tempo fa, Inter è molto lontane. Non dirmi che è lunga, per favore. Ma? Giovane Kuros, la tua missione è quello di trovare e sconfiggere Mooponian. Inizia con i suoi amici yokai, carino. Attura anche loro, ne farò i miei animalletti domestici. Corro, sarà fatto. Figo, giochiamo lui. Kuros. Madonna, che lento. Sì, mi ha detto. Sì, mi ha detto. Ma mi sta distruggendo. La mia voglia è un po' 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 è un po'. Dovete? Direi il tutto commento contemporaneamente. Porca miseria, però non è semplice, eh? Cibo! Perché era una healer? Sei da solo! Voglio continuare a aumentare l'attacca. Mi ha ralentato sto pezzo di merda. Qua facciamo così, no? Più nemici sconfiggo, più mi aumenta l'attacca. Ovviamente non ha durato, però... Pavo ne hanno! Questi sono nuovi! Sono degli animali! Dei ne hanno animali! Carine! E' carino che giochi con rossi! Beh, che so che su Yoke Watch 2 potevi anche ottenerlo. Qua non lo so se si può ottenere, però se lo vedo qua così penso di sì. No, attaccalo! Non mi attacca! Ah, ma è lui che mi sa che mi ha rallentato l'attacca. Guarda che sono lento! Aspetta che se no crepo! Eh, l'ha aiutato! Che merda! Un gang! Vai, vai, vai! Tranquillo! Mi sembrava che ce l'avevo! Finalmente è arrivato! Momonyan! Tranquillo! Buonanotte! Stai bene? Che cosa vuol dire che lo sporo? Certo che lo so! Devo evitare i combattimenti il più possibile! Buonanotte! 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 Ci ho quasi la volta ovunque! 15 di danno mi fa tutto sto danno nella vita! Ho pochissima vita! Gross! Certo non sappiamo che livello è quindi! Eh, comunque gross! Questo è Momonyan! Questo è quello che dobbiamo battere! Il boss! Da niente! Eh, è troppo forte ha perso! Non ci credo! Molto bene! I gioni hanno vinto! No! Ehi! L'arco! Carina! Stop! Che gran bel ripreso! Ah! Ma era un film! Quindi quella telefonata era proposta di lavoro come comparsa di un film? Ah, che performance meravigliosa, sono così felice di aver chiato te! Ero un po' nervoso alla scena del duello finale. Ah ah, così mi fa riuscire a miau! Come ero nel ruolo di Enorco? Probiamo noto. Beh dai, era la sua prima esibizione dopo tutto. Male che vada, possiamo modificare l'audio. Che cosa hai detto? E la mia performance era perfetta. Beh, era la stessa di sempre, miau. Sì, la stessa per tanti versi. Che cosa? Ma mi stavate guardando? Comunque il film di Momotaro con Konosso sarà un successore. Perché, eh? Gli regista sono regista yokai geniale. Andiamo a sala... no. Non voglio andare alla sala biblia. Eh, me l'ha dato il reward, eh? Corriamo! Corriamo! Non me l'ha dato, come possibile? Non mi fermi! Vabbè, la prossima volta la facciamo, dai. L'ho fatta in realtà. Devo solo prendere quella roba lì. Scusa, c'era scritto che lo devo come ricompensa. Non penso. Ah, ma è a culo! Puoi anche trovarlo. Eh, a questo punto conviene fare il boss. Perciò che quel boss è fortino. Ci manca solo quel boss là, che sta al 64... 67, però. E' alto. Non possiamo ottenere la sfera, però, vabbè. Vabbè, abbiamo un bel po' di punti... di sferroni che possiamo sfruttare per livellare, comunque. Vabbè, chiedo qui per oggi. L'ora e mezzo ho fatto, madonna. Hm. Grazie. 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 Grazie.